Musica Sul Mediterraneo centrale la pressione è in temporaneo aumento. Nel corso della giornata di sabato approfondimento di una saccatura atlantica con formazione di un minimo barico sul Golfo del Leone in estensione al Golfo Ligure. Sabato 2 novembre in Toscana cielo molto nuvoloso o coperto. Al mattino possibilità di isolate piogge generalmente deboli sulle zone più interne sul nord-ovest. Dal pomeriggio generale peggioramento con precipitazioni sparse, possibili temporali. Venti da deboli a moderati meridionali, mari molto mossi in serata, temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Cielo coperto e possibili piogge su tutta la provincia. A Lucca temperatura minima 13, massima 18 gradi. A Castelnuovo minima 9, massima 11 gradi. A Viareggio minima 15, massima 20 gradi.